Ciao a tutti ragazzi, io sono Glitch444 e oggi siamo su HeadBall2 Il nostro obiettivo oggi, allora, prima di tutto è di guardare le mie statistiche Perché ho 7200 fan, 18 di potenza in totale con questo personaggio Poi quando si scarica c'è sempre un altro, oppure con l'epid, tipo a 10 Che è più questa roba che c'ho addosso, la potenza è 13.5 Va bene, ho un trofeo in totale, sto per contegnermi il secondo perché ho risalato il gioco da poco E ho 56 punti, ma il secondo è 18, sono dei camatori che mi riferisco Ok, ho partito perché te lo metto e non mi interessa Oggi il nostro obiettivo è quello di fare un po' di carriera Al punto di arrivare a questo personaggio Siver Che lo sblocco, bastano 3 partite Sempre se lo sblocco Ora ho fatto la seccia, spero veramente Io non ho fatto la seccia Dobbiamo giocare contro il signor Zagloul98 Che è un campione È un grande campione di amatori Ho laggato, partiamo alla grande che l'avevo Non so perché, ho fatto una partita una seconda fa e non ho laggato la ora sto laggata Quindi, non è gelo, non so l'avete visto? Allora, è uno di giro, non so perché sono mezzo skillato Ok, ora ho fare il primo Ok, ora faccio il punto Faika? Faika, siamo ora tutti Ora ho segnato No, easy Non ho fatto apposta Non stanno fermando Non hanno mai fatto, non ho fatto Ezi, guarda Puoi scrivere a noi Ezi, guarda Non vale così non ho fatto di che lo stiamo non si 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 il primo 45 secondi è successo ma il gap congiore la scuola la scuola un gol separa le due sideri vediamo se ci sarà un scuola ci sono tutti i bambini non ho capito qual è la scuola non ho capito qual è la scuola non ho capito qual è la scuola non ho capito non ho capito non ho capito che schifo di tiro un gol sei a quattro non ho capito non ho capito non ho capito spievo spievo ma vaffa dai non entra con la palla non entra con la palla lo lascio a perdere grande pelatone vabbè però raga le pubblicità ok dopo una pubblicità finalmente avanziamo ci vediamo questa grande cosa di oro andiamo subito avete visto che i power up non mi servono ok siamo contro anthony 675 speriamo di vincere un altro campione di amatori 1 non sono anche io non puoi che sono troppo forte ma che schifo mi ha fatto skillare così ci sono niente non mi ammettite comando mi sono sali comandi invertiti mi sono sali comandi invertiti ci sono tutta cura ok e va a fare un cubo va a fare un cubo c'ho aiuto c'ho aiuto però c'ho aiuto c'ho aiuto però c'ho aiuto però c'è l'acqua importante no? easy oh oh ho la mia scena piazza oh cosa vuole piazza in faccio la mia scena si これで ho quella l'acqua è le no no! Quei possibili anche la chiesa era dentro e poi vincita oh no non fa no facciamo di nuovo tutto vogliamo facciamo bollucci un po' due ma non è una cosa inserita guardare il fatto che la francese e il proprio momento se è avuto se è avuto che schifo che schifo che schifo no ha aggiunto 4 secondi avrei potuto fare tante cose vediamo cosa succede nei prossimi secondi del match cambiamo non mi interessa power up di merda ok guardate le mie ultime partite sono tutto sconfetto grande tgm 6 9 7 0 0 cambia una matera pericolo 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 2 2 non so se c'è aspetta c'è quella con per 100 3 non stupendo che hanno bisogno di più povera ciao bello no che schifo no che schifo no che schifo che schifo ciao bello ciao bello ciao bello buongiorno buongiorno mangiare un po' il gap is quite small and it can still be closed ma io non sto con l'esportale giustamente ma devo sentire ma che problemi ha questo questo tizio no un tempo da notare quanto io non sto cagando non ho non ho ma 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 non è vero che tiri di merda si impegna un po di più un gol asso! ma si deve però evitare così, no! che schifo, che schifo ma perchè ha tirato, stava in gioco in faccia il titolo grazie il titolo il titolo di solito il titolo il titolo di eri il titolo di eri il titolo di soluzione però va bene ma ecco lo siren si ce l'ho fatta eccolo ecco lo siren leggendario 34 di potenza uh vabbè ragazzi ci vediamo in un prossimo video comunque dico ora che il video continuerà continuerà però non ora farò un altro video in cui in cui proverò siren comunque spero che questo video vi sia piaciuto mentre vi faccio vedere alcuni personaggi che non ho anche siren sono molto sexy vabbè spero che questo video vi sia piaciuto se volete vi porto 3d di headball e noi ci vediamo in un prossimo video bella a tutti ciao vabbè lasciate guardervi che sono un buon di capone